Termine scaduto, depositate le liste ufficializzati, candidati tra le coalizioni centrodestra, centrosinistra, Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali e poi altre formazioni politiche nel proporzionale. In Sicilia nel collegio di Agrigento all'uninominale maggioritario alla Camera sfide dirette e vince il più votato tra Giuseppe Sodano, centrosinistra, Lillo Pisano, centrodestra, Michele Sodano, Movimento 5 Stelle, Bianca Guzzetta, Liberi e Uguali. Poi altra sfida diretta quindi maggioritaria nell'uninominale maggioritario al Senato nel collegio di Agrigento, Maria Iacono, centrosinistra, Vincenzo Giambrone, centrodestra, Rino Marinello, Movimento 5 Stelle, Calogero Zammuto, Liberi e Uguali. Poi l'assegnazione dei seggi con il proporzionale sia alla Camera che al Senato, i candidati nel proporzionale alla Camera nel collegio Sicilia 3, Gela Agrigento, Mazzara del Vallo, Sono, Partito Democratico, Daniela Cardinale, Marco Campagna, Teresa Diadema, Angelo Galanti, Movimento 5 Stelle, Azzurra Cancelleri, Filippo Perconti, Rosalba Cimino, Terrana Dino, Liberi e Uguali, Bianca Guzzetta, Cesare Loleggio, Daphne Rimaudo, Nicolo Asaro. Forza Italia, Giussi Bartolozzi, Andrea Mineo, Vanessa Sgarito, Marcello Fattori, Casa Pound, Claudia Sirchia, Vittorio Susinno, Caterina Cerra, Fabrizio Sutera. Lega, Alessandro Pagano, Anna Maria Sciangula, Loreto Gnibene, Alessandra Cascio. Potere al Popolo, Michelangelo Palermo, Giuseppina Di Cristina, Giuseppe Carusotto, Laura Angela De Marco. Il Popolo della Famiglia, Laura Terrana, Renato Messina, Sergio Coniglio, Rosetta Saladino. E infine nel proporzionale al Senato i candidati nella Sicilia occidentale, comprensiva ovviamente di Agrigento, sono Partito Democratico, Davide Faraone, Teresa Piccione, Paolo Ruggirello, Maria Iacono, Movimento 5 Stelle, Antonella Campagna, Vincenzo Sant'Angelo, Cinzia Leone, Fabrizio Trentacoste, Liberi Uguali, Pietro Grasso, Mariella Maggio, Fabrizio Bocchino, Teresa Monteleone, Forza Italia, Renato Schifani, Urania Papateu, Nitto Francesco Palma, Domitilla Giudice. E per gli italiani all'estero in Europa, che votano tra il 14 e il 21 febbraio, il professor Giuseppe Arnone di Favara è l'unico candidato siciliano di Forza Italia alla Camera nella circoscrizione Europa con la lista di centrodestra Salvini Berlusconi Meloni.